Buongiorno, allora presento, deposito un progetto di legge su Rousseau che in realtà è una modifica, un'integrazione ad una legge regionale già esistente in regione Lombardia, nella fattispecie la numero 33 del 30 dicembre 2009. Questa legge a mio avviso però è incompleta perché non tiene in considerazione alcune fattispecie di reati. Stiamo parlando di maltrattamento degli animali. In particolare ci sono diversi paesi in Lombardia nei quali d'estate vengono fatte delle sagre, delle feste di paese e all'interno di queste feste si usano gli animali a scopo ricreativo. Ovviamente si usano gli animali in maniera inappropriata, il cosiddetto pallio dei maialini, il cosiddetto paglio delle oche e questo tipo di attività vengono sempre ammantate dalla tradizione. Questo tramandare la tradizione è un uso, un costumo, una consuetudine di questi paesi. In realtà sono tradizioni assolutamente superate, sono assolutamente diseducative per i bambini ma comunque sono diseducative e senza dubbio sono delle violenze gratuite sugli animali. Quindi io ringrazio tutti coloro che vorranno fare attenzione a questo testo e mi vorranno fare proposte e suggerimenti al riguardo.